Buonasera, sono Luigi Maldella, direttore del punto vinto delle Romer Band Belpasso. Ci troviamo alle Ciminiere, a Lente Fiera, per la prima volta con il nostro stand delle Romer Band, per far conoscere la nostra realtà. Quello che contraddistingue le Romer Band è sicuramente un assortimento di gamma, oltre 40.000 prodotti per razionalizzare la tua casa, che sono convenienti. Musica 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 Noi puoi progettare i tuoi spazi dal mondo di cucina, in bagno, al concettino, che ci ha trovato. Noi puoi progettare i tuoi spazi dal mondo.